Ciao Mr. Helmet, Eikma, io sono da TCX, TCX è un'azienda italiana, produce in Italia, sono i primi ad aver fatto le scarpe certificate, vuol dire protette, veramente scarpe da moto e loro hanno come cavallo di battaglia, oltre ovviamente a tutta la linea racing, fuoristrada, pista, scarpe tecniche, questa soluzione qui, che è, la scarpa non è così, questa è tagliata per farvi vedere che, diciamo così, obbedisce a tutte le regole di protezione, protezione sul malleolo, sul calcagno, sulla punta, è materiale certificato, ci sono in tante variabili, dalle waterproof un po' più trendy, a versione camouflage, che è veramente urbana, e anche queste con gli inserti ad alta visibilità, fino a qui, anche un po' più fashion, anche un po' più glitter per le signore e per le signorine, non costano tantissimo, 129-149 euro più o meno, è la forbice, la fascia, insomma, di prezzo e TCX spinge su questo tipo di mercato, le esigenze portano a un motociclista un po' più urbano, che usa la moto e lo scooter per fare le cose normali, la pista c'è, il cross c'è, ma TCX spinge da pioniere anche su queste scarpe qui, le trovate in giro nei negozi, io vi saluto e fate bravi, ciao!